L'accelerazione del Governo sull'accorpamento delle Camere di Commercio non piace alla Regione Emilia-Romagna che chiede la proroga del termine fissato al 14 ottobre per la riorganizzazione. L'articolo 61 del Decreto Legge 104 del 14 agosto prevede che se le aggregazioni non avverranno entro il 14 ottobre saranno nominati i commissari dal Ministero dello Sviluppo Economico. In Emilia-Romagna gli accorpamenti riguardano gli enti camerali di Piacenza Parma e Reggio Emilia e poi Ravenne Ferrara. Nei giorni scorsi si erano opposti al provvedimento il parlamentare di Fratelli d'Italia Tommaso Foti, il sindaco di Piacenza Patrizia Barbieri, oltre alle categorie economiche locali che avevano indirizzato una lettera ai parlamentari piacentini. Sul caso ora sono intervenuti anche il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e l'assessore al lavoro Vincenzo Colla. Sono processi che in questa fase particolarmente critica per il mondo economico pensiamo possano essere ragionevolmente spostati più avanti nel tempo, scrivono Bonaccini e Colla. Adesso tutti i nostri sforzi, assieme a quelli del sistema economico produttivo Emiliano-Romagnolo, devono essere concentrati a sostenere lavoro e occupazione affinché le imprese possano essere protagoniste della ripartenza post-Covid.